Ciao a tutti ragazzi, allora questo video lo sto facendo con il tablet e per mostrarvi allora un nuovo acquisto Allora, guardate, ho preso Twyla, Tortiwishes Bene, sono contenta, ho preso già da una settimana e ho già fatto un'altra acquisto Non è questo, non è questo, non è questo che vi voglio far vedere, ma è questo Sono contenta come perché Twyla trovo che sia, guardate Trovo che sia stupenda Aspettate che alzo un po' così, così, vedete Ecco Poi ho preso Tartiniwishes Che è G.G. Grant Aspettate Eccomi qua Farò un video dove la aprirò Questa è la prima parte che vi fa Questo E diciamo, chiamiamolo Scopro E poi farò L'apertura Prima, seconda, terza Quante parti ci vorranno Sì Sono estracontenta Ora la aprirò Tartano un attimo Twyla Così vi faccio vedere meglio E qua c'è la mia lampadina che però devo mettere così per farlo vedere ecco qui qua che stavo giocando c'è Franky vabbè spero che questo video vi sia piaciuto sono estracontenta e ora la aprirò